Buonasera, è sempre con un grande coraggio che prosegue questa nostra scuola elementare di cultura, non è proporzionata a noi. Gli occhi, le orecchie e soprattutto il cuore, nella loro apertura dipendono allo Spirito Santo. Oggi credo viviamo un tempo di grande sordità, leggevo ieri un articolo di Anna Pellicciari, la parola ascolto oggi è molto usata, ma in senso pietistico moltissime volte. Il titolo dell'articolo era Ascoltare chi? Shema Israel. Chi ascoltare? Come diceva Sant'Agostino, bisogna che lo Spirito prema così forte sui nostri orecchi che sia vinta la nostra sordità per ascoltare ciò che è sicuramente vero. Si Ma, emozione dello Spirito, apertura degli occhi. Enciclica Lumen Fidei, al numero uno. Chi crede, vede. È sempre stato vero che chi vede crede. Perché il credere non è per una fantasia, ma per ciò che si vede si ode e si tocca con mano. Ma è anche vero che chi crede, vede. Sa distinguere. Perché il vedere è saper distinguere con un verbo che oggi si usa molto, discernere. Non mi piace più giudizio. Chi crede, giudica. Dà diritto alla realtà di essere quello che è. E soprattutto ci vuole lo Spirito perché il cuore si apre. Come dice il profeta Ezechiele, tolgo da te il cuore di pietra e ti innesto un cuore di carne. C'è un cuore che palpita. Vuol dire un cuore che si muove e che muove. Ecco perché è il centro. Dicevo a loro un grande coraggio a tirare avanti una scuola. Cos'è una scuola? Questo termine scuola a me piace tantissimo. Non solo perché ho passato decenni all'interno della scuola. Perché è evangelico. È evangelico. Un termine evangelico. Maestro e discepolo. E quando i discepoli erano stanchi, Gesù li prendeva da parte. E il Vangelo dice, insegnava loro tante cose. La scuola, che vuol dire il tempo libero, è perché è il tempo del riposo. Perché è il tempo dell'insegnamento. Non è il tempo dell'occhio. Siete stanchi, oppressi dalla fatica. Non avete avuto nemmeno il tempo di mangiare. Venite con me, riposatevi un po'. E il commento insegnava loro tante cose. E loro erano discepoli. In quanto, con quell'apertura, ancora non del tutto spalancata, degli orecchi, degli occhi e del cuore, ascoltavano. Il metodo della scuola è l'insegnamento. L'esito della scuola è l'apprendimento. Andrò a prendere. Ma pensate voi, quanto più arricchiti erano quelli lì, maestro da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Maestro, che bella parola, maestro. Magister, magis. Riconosce un'autorità. Questo sì che parla con autorità. Gli discepoli sono quelli che hanno appreso, hanno sentito, sono stati attenti, hanno ascoltato e hanno obbedito, obaudire. E lì siamo a Salor Libertà. Se vuoi, vieni e seguimi. La libertà si muove soltanto dopo un ascolto, che prende gli orecchi, il cuore, la volontà, l'intelligenza. Qual è il contenuto della scuola? È uno solo. La verità. Qui lo dico per esperienza. Tutte le mattine, quando salivo le scali del liceo, non avevo la mia verità da dire. Come dice Romano Guardini. Guardavo la verità. Volevo che la verità mi parlasse. Lasciamo parlare la verità. Qualche volta forse la mia parola corrispondeva alla verità che avevo ascoltato. il contenuto della scuola è la verità. Noi siamo abituati a pensare che la verità è legata principalmente alla logica, al pensiero. Invece la verità è legata alla visione. La verità si contempla. La beatitudine è nella visione. La gloria di Dio è l'uomo vivente, dice Sant'Igeneo. È l'uomo vivente. È l'uomo che vede Dio. È l'uomo che vede Dio. Lo vede proprio. Mostraci, Signore, il tuo volto. Tutto il grido dell'Antico Testamento realizzato in Gesù è la risposta a questo grido. Mostrami, Signore, il tuo volto. La verità è da vedere. Uno che vede la verità, perché ha fede, perciò vede, è beato. È al culmine di una beatitudine che sorprende sempre di più. Entra in quella famosa familiarità col mistero. La verità è una presenza. Vir qui adest. L'abbiamo chiamato scuola elementare. Prima di tutto perché deve essere semplice. Il cardinale Ratzinger nella sua Somma Teologica sulla Liturgia dice che la semplicità non è banalità. la semplicità è una caratteristica delle persone sagge e mature. Una persona saggia e matura è semplice. Non è equivoca. Il parlare è sì, sì, no, no, semplice. Parole chiare ed esatte. Non all'incirca. La verità è paziente. E' elementare perché è paziente. Paziente non vuol dire permissiva, ma che insiste sempre. gutta cavat lapidem. Ed è unificante. Senza la verità la pace è falsa. Leggevo in un articolo proprio stamattina ed è di tempi che una pace senza verità è una guerra rimandata. Si chiama armistizio. scuola elementare di cultura la cultura è l'arte del contadino, del colono. Dissodare il terreno Don Giustani diceva non è possibile entrare dentro ad una novità se con essa non c'è una sintonia. La famosa parabola del seminatore l'attenzione al terreno al terreno umano è il tipo di terreno che accoglie e promette il seme al seme. Quindi il terreno la semina il germoglio le potature la cura chi è l'uomo signore che tu ti prendi cura di lui fino al frutto ma quello non è ancora niente e quando uno è maturo è pronto per stupirci sempre di più. diceva sempre il paradiso non è una noia eterna ma una sorpresa eterna. L'urgenza di questa scuola ci è venuto in mente perché aveva ragione John Solveld si è venuto in linguaggio ad ulterato una parola e ad ulterato lo spirito oggi si usano parole e eufemisticamente attraenti ma che nascondono una malvagità una menzogna incredibile. siamo nel tempo in cui intellettuali giornalisti scrittori mettono croci su ciò che definiscono stereotipo e sostituiscono con altri termini quelli che sono i cosiddetti principi non sindacabili per quello e per questo almeno da parte mia quando i miei amici mi dicono ma continuiamo ah senz'altro senz'altro perché imballo la mia umanità la prima missione non ce l'ho nei vostri confronti ma nei confronti del mio io del mio io scusate se ho letto un po' lungo il percorso lo trovate sui vostri sulle vostre sedie e si compone quest'anno di tre di tre temi diciamo così che vogliamo lanciare il primo appunto con il professor Damagni sul lavoro un secondo tema sulla città e un terzo tema sull'educazione quindi questo sarà il percorso che ci seguirà in questo periodo per recuperare appunto come diceva Don Agostino il significato esatto delle parole questo primo incontro questo primo incontro è dedicato al lavoro io lancio una provocazione e la lancio sulla base di un testo che è il senso religioso di Don Giussani ha un capitolo che si chiama l'io in azione e dice così i fattori che ci costituiscono cioè che ci costituiscono come uomini e quindi che caratterizzano la nostra umanità emergono osservandoci in azione è qui che appaiono gli elementi importanti di quello che è il meccanismo e il soggetto umano cosa fa discendere da questo Don Giussani per questo in una società il disoccupato cioè una persona non in azione una persona non in movimento è un uomo che soffre un attentato grave alla coscienza di se stesso è in condizioni tante perché la percezione dei suoi valori personali risulta sempre più annebbiata questo mi ha colpito molto e appunto perché penso a quante implicazioni ha questo discorso potremmo chiederci e lo chiediamo al professor Zamagni come si lavora per il lavoro cioè come far sì che sempre di più l'uomo si trovi in quella condizione di movimento e di azione che costituisce poi il suo essere quindi anche concretamente insomma come incentivare il lavoro ci sono tanti temi sul tappeto il job act la legge viaggi precedentemente adesso abbiamo il reddito di cittadinanza si può vedere se va in questa direzione o meno abbiamo lo sviluppo del commercio online e il rapporto con il commercio tradizionale leggevo che fra un po' saremo invasi da robot di terza generazione che cambieranno muteranno profondamente il lavoro cosa succederà ecco lo chiediamo attraverso la presentazione di Michele Navacchia al professor Zamagni grazie buonasera ringrazio in nome del crocevia il professore il professor Zamagni per aver sentato l'invito non penso sia necessario presentarlo ma brevemente professor ordinario di economia politica all'università di Bologna ci fermiamo qua citerei per lo meno consultore al pontificio consiglio giustizia e pace mi conceda questo per non parlare ovviamente della John Hopkins University presidente dell'agenzia per le onlus e mi fermo e mi fermo allora introdurrei appunto con una domanda ripartendo dal titolo che l'avvocato ha appena appena citato oserei dire il contesto economico in questo momento sembra sempre più orientato all'affermazione del capitalismo come modello unico di riferimento collegato a un fenomeno di globalizzazione un'enfasi sempre più forte sulla dimensione finanziaria e anche dal punto di vista della mia professione un'incessante spinta all'accelerazione dell'innovazione tecnologica alla digitalizzazione che stanno trasformando comportamenti mercati e settori interi in questo scenario il lavoro corre il rischio di essere ridotto a un fattore produttivo tra l'altro ormai sempre più a veloce obsolescenza e da più parti addirittura si sente parlare di disoccupazione fisiologica o programmata tra l'altro a fronte dei limiti del sistema che abbiamo potuto conoscere sulla nostra pelle a partire dal 2008 come diceva l'avvocato stanno emergendo alcune voci fuori dal coro che parlano di oserei dire forse in maniera reattiva parlano di reddito di cittadinanza o addirittura reddito di nascita e in questo contesto allora riprendo il titolo che cosa significa lavorare per il lavoro in che cosa consiste l'economia civile e come risponde alle esigenze dell'uomo non ridotto e non riducibile a fattore produttivo o a consumatore come la dottrina sociale della chiesa affronta guida e accompagna il percorso di chi lavora e di chi lavora per il lavoro e infine quali spunti possono può offrire a noi membri della società civile che a partire dall'esperienza di cui parlava Don Agostino sentiamo la responsabilità nel luogo in cui siamo grazie 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 per l'invito che mi è stato rivolto da Arturo è la prima volta che mi accade di partecipare a questi vostri incontri e ho imparato questa sera della vostra associazione del vostro centro culturale che ha la natura giuridica di un'associazione di promozione sociale e delle attività che avete messo in cantiere allora io cercherò di rispondere alle domande che mi sono venute e che abbiamo ascoltato ora oltre che dalla sollecitazione come ti chiami tu di nome? Stefano di Stefano e prendo le mosse da una considerazione di natura generale è acceso? sì il lavoro è un bisogno umano fondamentale questa affermazione può sembrare scontata ma non lo è perché invece si tende a dire che quello del lavoro è un diritto è chiaro che è un diritto ma è un diritto perché è un bisogno umano fondamentale la storia ci ha insegnato che in certe fasi i diritti possono essere cancellati o sospesi ma i bisogni se sono fondamentali non possono mai essere sospesi e in cosa consiste allora questo bisogno fondamentale? il bisogno per tutti credenti e non credenti è legato alla fioritura umana come lo chiamava Aristotele cioè dire alla realizzazione del sé del proprio potenziale se poi uno è credente in questo caso cristiano ci aggiunge una seconda componente che definisce il bisogno e cioè la partecipazione dell'uomo al progetto del completamento della creazione perché noi non ci riflettiamo ma il cristianesimo è una religione molto speciale perché il dio cristiano il settimo giorno si è riposato si era stufato perché si era stufato perché ha voluto che fossimo noi uomini che viviamo nella storia a completare l'opera delle sue mani come dire io faccio il 95% voi però uomini dovete fare il 5% e come si completa l'opera attraverso il lavoro e con il lavoro quindi negare il lavoro per un verso e questo lo capiscono tutti è negare la fioritura umana e quindi la dignità e questo lo capiscono tutti ma per uno che si professa credente negare il lavoro vuol dire impedire a quella persona di concorrere al completamento dell'opera di dio e allora per questo che quello del lavoro è diventato giuridicamente un diritto beh perché riflette questo bisogno fondamentale infine mette sempre conto chiarire quello che già Aristotele aveva a suo tempo detto ai suoi quando introduce la distinzione tra lavorare ed operare qual è la differenza che il lavorare è un'attività umana che tende a trasformare l'oggetto alla quale si dedica io prendo del legno dei chiodi della colla li combino e ottengo il tavolo o la sedia quello è lavorare perché il lavoro si dirige all'oggetto cos'è invece operare cos'è l'opera è quell'attività umana che mentre trasforma l'oggetto trasforma anche il soggetto questo è molto importante fra l'altro io lo ricordo sempre visto che qui siamo in casa di una cooperativa solo che i cooperatori se ne dimenticano queste cose perché sono dei lazzaroni perché si chiamano cooperativa non si chiama collaborativa vorrà pur dire qualcosa perché chi lavora nella cooperativa a differenza di chi lavora in un'impresa di tipo capitalistico non solo produce delle cose come l'altra ma tende a cambiare il carattere degli uomini di coloro che ecco perché i cooperatori hanno una responsabilità in più per il manager di un'impresa capitalistica l'importante è garantire l'efficienza o la produttività e ovviamente rispettare le norme sociali e di legge ma chi gestisce nella cooperativa una cooperativa deve sapere che chi vi lavora oltre a produrre tende anche a cambiare in una precisa direzione la propria personalità pensate ad esempio a quel valore che è il valore della fraternità nessuno in un'impresa capitalistica vi parlerà mai di fraternità ma in un'impresa cooperativa bisogna perché se tu non parli di fraternità non sei una cooperativa anche se giuridicamente ti chiami tale e così via ecco allora perché è importante di tanto in tanto richiamare perché le abbiamo perse di vista negli ultimi decenni per una serie di ragioni che non ho il tempo qui di illustrare siamo caduti in una situazione di un lassismo intellettuale che fa paura siamo diventati stupidi non sappiamo più dare il significato alle parole le confondiamo operare lavorare l'Evangelo dice l'opera opus dei l'opera di Dio non dice il lavoro di Dio vorrà pur dire qualcosa detto questo allora passo all'articolazione che mi è stata proposta qui dall'amico e come ti chiami? Michele Michele da Michele bisogna imparare i nomi eh fermenti allora il punto è che il lavoro inteso in questo caso nell'accezione generale che è stato dato al titolo di questa conversazione si crea non si redistribuisce ora questa è la prima tesi voi direte ma è importante come se è importante per colpa anche dei cattolici è passata negli ultimi decenni l'idea secondo cui il lavoro si redistribuisce se c'è poco lavoro si dice lo dividiamo come quando uno ha una torta sono in tanti a mangiare facciamo le fette più piccole questo è un errore tragico perché il lavoro va creato bisogna superare la concezione petrolifera del lavoro che è la concezione che molti ancora hanno secondo cui il lavoro sarebbe come una miniera o un giacimento petrolifero uno lo trova e tira fuori i posti di lavoro non è così perché il lavoro bisogna crearlo cosa vuol dire crearlo perché prima non c'era perché si crea qualcosa che prima non esisteva secondo chi è che crea il lavoro bisogna dire crea il lavoro l'impresa è l'impresa che crea il lavoro non lo crea la burocrazia lo Stato non può creare il lavoro voi direte molti dicono ma per forza molti dicono stupidaggini cosa volete farci se non ci fossero le stupidaggini non saremmo al punto in cui siamo perché è solo l'impresa in senso proprio il soggetto che al quale è demandato la creazione del loro terzo l'impresa che crea il lavoro ovviamente non è solo l'impresa capitalistica ma è anche l'impresa sociale ho citato prima le cooperative opposta o pensate alle imprese sociali stricto in senso stretto e così via in altre parole la differenza tra i due modi di creare lavoro è che l'impresa di tipo capitalistico crea il lavoro ma non è generativa l'impresa sociale crea il lavoro in modo generativo voi direte cosa è sta storia della generatività cosa vuol dire generare vuol dire creare e poi lasciare che il soggetto o la creatura creata possa entrare nel mondo liberamente senza condizionamento provate a pensare all'esempio più tipico una coppia di genitori mette al mondo un figlio una figlia quindi hanno creato è vero ma molti cosa fanno pensano che quel figlio sia proprietà e quindi si comportano in maniera paternalistica cioè non accettano che il figlio possa eventualmente tradire l'aspettativa e quindi non sono disposti a scommettere sulla libertà del figlio quei genitori hanno creato il figlio ma non lo hanno generato e questo è il punto perché quando recitiamo il credo c'è la parola generato perché il dio cristiano non ha solo creato ma ha generato perché ci lascia liberi dopo che ci ha creati di tradirlo anche ricordate l'episodio di Giuda Giù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito e come se lo sapeva però non l'ha discriminato anzi l'ha fatto mangiare vicino a lui sino all'ultimo la stessa cosa per Pietro sapeva che Pietro l'avrebbe tradito però ha fatto quello che ha fatto ecco allora il punto è l'impresa il soggetto che crea il lavoro le burocrazie statalistiche o parastatalistiche possono solo redistribuirlo portano via da di qua per darlo di là e beh quello non c'è creazione netta il risultato la somma algebrica il risultato netto è zero perché non c'è creazione l'ultimo punto è che l'impresa capitalistica e non capitalistica e la differenza sapete l'impresa capitalistica opera per l'obiettivo del profitto l'impresa non capitalistica opera per raggiungere altri obiettivi come quelli cui ho fatto riferimento entrambi i tipi di impresa creano lavoro se nella misura in cui questo è conveniente ho detto conveniente non ho detto profittevole in altre parole a che cosa è dovuta questa circostanza che viviamo in un'economia di mercato di tipo capitalistico dalla quale non è possibile pensare a fughi in avanti fino a 30 anni fa c'era qualcuno che poteva dire il mercato capitalistico non ci piace abbiamo un'alternativa cioè la pianificazione centralizzata di tipo sovietico ed è vero pensate voi quanti fino all'inizio degli anni 80 pensavano che sarebbe stato possibile anche in italia qualora il partito comunista avesse vinto la maggioranza andare in quella direzione ma con la caduta del muro di berlino tutto questo è oggi uno che pensasse ad uscire da un'economia di mercato sarebbe o pazzo oppure irresponsabile perché decreterebbe la morte per fame di tanti milioni di innocenti guardate il caso del venezuela pensate venezuela un paese che inserra ricchissimo eccetera per queste sbandate in chiave ideologica sta facendo morire la gente di fame o di sottonutrizione o di denutrizione eccetera quindi non si può scherzare quello che però va detto è che il mercato l'economia di mercato che oggi non ha alternative a livello mondiale dopo che la Cina che ancora il partito comunista unico ha adottato con Deng Xiaoping negli anni 80 ha adottato l'economia di mercato perché in Cina c'è un'economia di mercato che è più avanzata che in America pensate alla borsa la borsa di Shanghai direi fa concorrenza alla borsa di Wall Street e così via allora il punto è che il mercato l'economia di mercato non è una entità unica ma ci sono diverse versioni e quindi sta agli uomini che vivono nella società il compito di scegliere una versione piuttosto che l'altra c'è un mercato che include e c'è un mercato che esclude c'è un mercato che estrae valore aggiunto e c'è un mercato che invece rende partecipi tutti del valore aggiunto creato i primi si chiamano mercati civili gli altri sono mercati incivili dobbiamo onestamente dire che in Italia come in altri paesi dell'Occidente avanzato il mercato è incivile perché è un meccanismo che opera per distinguere per eliminare ci è voluto la testa e la forza il coraggio di Papa Francesco che è il matto che sappiamo per cognare la nuovo termine e cioè uomini di scarto di scarti umani che è un concetto che ha inventato lui perché gli scarti umani sono messi molto peggio che non i disoccupati perché il disoccupato è uno che adesso non ha il lavoro ma che può sempre pensare di reentrare di nuovo nel processo lavorativo ad un tempo successivo una scarto invece è come quando voi gettati in pattumiera un panino non lo recuperate più quindi le persone di scarto sono veramente vivono una condizione di gran lunga peggiore di quella del solo nero disoccupato ecco allora il punto se adesso voi mi chiedete come mai questa situazione si è venuta a creare il discorso si farebbe un po' lungo mi limito solo a questo passaggio e cioè che negli ultimi 35-40 anni siamo passati dal modello del capitalismo industriale al modello del capitalismo finanziario quindi oggi quando qualcuno dice capitalismo non dice niente bisogna metterci l'aggettivo sapete che nella storia del capitalismo all'inizio ci fu il capitalismo delle campagne perché era l'agricoltura l'attività dominante poi all'epoca della prima rivoluzione industriale in Inghilterra nella seconda metà del settecento nasce il capitalismo industriale a partire dagli anni settanta del secolo scorso il passaggio al capitalismo finanziario che vuol dire che oggi l'attività finanziaria fa agio cioè supera l'attività produttiva e in secondo luogo che i grossi gruppi finanziari a livello mondiale sono quelli che dettano l'agenda ai politici i quali pensano poveretti di decidere di testa loro ma loro non decidono niente 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 perché chi li manovra come il burattinaio sapete che sta dietro e che con i fili fa ballare i burattini eccetera ebbene il capitalismo finanziario oggi ha degli effetti veramente pesanti perché perché il capitalismo finanziario è valso e serve a delegittimare il senso del lavoro la parola sensio in italiano vuol dire direzione in quale direzione si va perché perché le nuove tecnologie del digitale delle cosiddette tecnologie convergenti si chiamano così del gruppo NBIC che vuol dire nanotecnologie biotecnologie intelligenza artificiale e cognitive science le scienze cognitive quelli che studiano il cervello si sono come dire unite e hanno e stanno determinando una completa sostituzione dell'attività finanziaria come da secoli avevamo interpretato vi dico solo questo fra dieci anni scompariranno tutte le banche non ce ne sarà più una ve lo dico io le banche che abbiamo imparato a conoscere perché perché la tecnologia del blockchain e altre diavolerie sostituiranno completamente i segnali già ci sono per stare al caso italiano voi sapete cos'è la banca 5 e cos'è i limiti se non lo sapete però dovete informarvi perché questo fa parte della cultura se no come facciamo a ragionare banca 5 è una nuova banca del gruppo intesa San Paolo la quale opera senza sportelli sul territorio voi direte come fa ha fatto un accordo con 20.000 tabaccai sparsi per tutto il territorio la gente va dal tabacchino compra le sigarette se le vuole comprare e poi fa depositi ritira paga le bollette e così via quindi non c'è lo sportello tradizionale quindi non ci sono gli occupati perché c'è il tabacchino il quale ovviamente ottiene una percentuale sul volume e lui ci guadagna ma più interessante ancora è l'altra banca creata da poco da Corrado Passera sapete chi è Corrado Passera la sua banca l'ha chiamata Illimiti che vuol dire illimitatezza siccome lui è molto umile e l'ha chiamata così buon per lui ebbene Illimiti è una banca veramente completamente digitalizzata non c'è carta tutto avviene e loro con i clienti stabiliscono un rapporto diretto senza la mediazione del bancario perché il bancario fino adesso era un mediatore io andavo allo sportello depositavo tu andavi a ritirare quindi era un mediatore Illimiti il mediatore e addirittura sarà creato i cosiddetti figure del tutor cioè dire se un cliente ha da fare un'operazione importante che non sia solo deposito eccetera manda un messaggio e Illimiti gli manda a casa un tutor cioè un esperto che si mette a sua disposizione per risolvere gli problemi e adesso capite perché fra dieci anni le banche tradizionali scompariranno non è che scompaia la banca come soggetto economico ma nella forma tradizionale che abbiamo conosciuto negli ultimi 500 anni quindi capite perché il capitalismo finanziario è quello che ha maggiormente beneficiato della quarta rivoluzione industriale la rivoluzione cioè delle nuove tecnologie del digitale e di tutto il resto perché queste cose queste diavolerie qui si applicano subito e molto bene nella finanza anche nell'industria e allora c'è la stampante 3d c'è la mecatrop però l'industria per quanto voi andiate a meccanizzare avrà sempre bisogno dell'ingegnere del sotto ingegnere di questo di quell'altro e così via ecco allora perché oggi il problema del lavoro diventa particolarmente cruciale perché con l'avvento del capitalismo finanziario che sta utilizzando le nuove tecnologie si viene a determinare una diminuzione e questo va bene ma soprattutto del senso del lavoro cioè si va perdendo il senso qual è il senso del lavoro infatti se voi andate a parlare a questa gente e gli dite quello che ho detto io all'inizio che il lavoro è un bisogno in mano fondamentale vi dico non è vero la gente non è vero che ha il bisogno la gente ha bisogno di avere i soldi in tasca e di comprarsi tutte le cose chilioni dicono questo quindi tenete conto che la battaglia è culturale sottile perché ti delegittimano ti dicono non è vero che la gente vuole lavorare allora noi dobbiamo operare solo attraverso la redistribuzione del reddito e quindi perché è venuto fuori il reddito di cittadinanza esattamente in questa logica perché se tu non andrà in porto perché non abbiamo i soldi ma ammettiamo che arrivino dei soldi qual è il messaggio ecco perché è pericoloso il reddito di cittadinanza quando l'anno scorso a giugno a Papa Francesco a Genova quando andò a visitare gli operai insomma la gente del porto alla fine del discorso uno gli si avvicinò e gli dice e cosa pensa santità del reddito di cittadinanza non so se voi ve lo ricordate solo l'avvenire ne ha parlato gli altri giornali dice a me il reddito di cittadinanza non piace a me piace il lavoro di cittadinanza che vuol dire dare il lavoro a tutti per il ragionamento che ho fatto prima però è ovvio che di questo pericolo dobbiamo essere resi edotti che è un pericolo ripeto non solo di far scomparire posti di lavoro perché a quelli si potrebbe rimediare ma di delegittimare il senso del lavoro facendo credere che la gente normale non ha bisogno di lavorare mi correggo non vuole lavorare e se lavora è perché vuole i soldi alla fine del mese se allora io i soldi glieli faccio arrivare per altra via la gente è ancora più contenta dopo voi andate a impostare certe linee di politica economica su una premessa di questo tipo disastro però vedete che nel dibattito pubblico nessuno mette in evidenza questo si dice il reggio di cittadinanza ma no non ci sono insomma non è quello il punto perché anche se ci fossero quei 20 miliardi che servono ci vogliono 20 miliardi oltre i 20 miliardi di debito pubblico in aumento ce ne vogliono altri 20 ma mettiamo pure che un qualche benefattore in giro per il mondo voglia darli il problema sarebbe ancora più grave perché la gente si vedrebbe arrivare dei soldi per fare niente poi dopo è chiaro che per addolcire la pillola ti dicono le tre massoni non credete sono tutte balle sono tutte balle non credete lo so che la povera gente si lascia in finocchiare e dopo gli esiti sono quelli che vediamo ma non è di questo che dobbiamo parlare allora quando l'ulteriore punto il lavoro non si crea la domanda è quali sono le ragioni per le quali perché abbiamo detto che il lavoro si crea non si ridistribuye e chi crea il lavoro sono le imprese di un tipo e della eccetera allora quando non avviene questo processo di creazione del lavoro quali sono i fattori causali primo il mismatch come si dice in inglese cioè il mancato incontro tra domanda e offerta in altre parole e questo riguarda molto noi non solo noi italiani ma noi dell'Emilia Romagna che è un dramma le imprese dell'Emilia Romagna chiedono lavoratori cui offrirebbero anche contratti molto appetibili ma non li trovano perché quelli che sono senza lavoro non hanno le qualità adatte per essere inserite in quelle tipologie di imprese questo è un dramma cioè siccome le nostre imprese sono molto avanzate hanno bisogno di personale avanzato avanzato sul fronte delle conoscenze nelle nuove tecnologie di cui ho fatto parole e le nostre imprese non li trovano e quindi devono far venire queste nuove figure da fuori dall'India soprattutto oltre che dalla Germania eccetera e i nostri mi direte voi perché succede questo perché il nostro sistema scolastico e universitario è fondamentalmente sbagliato cosa volete che vi dica chi ci ha rovinato la vita è stato Benedetto Croce filosofo di grido che è diventato amico di gentile fascista ministro la riforma gentile e l'impianto della riforma gentile grida vendetta al cospetto di Dio però nessuno mai ha osato cattolici e non cattolici a me hanno insegnato che la verità va detta anche quando dà fastidio e io non ho tengo fede a chi da piccolo mi ha incamminato ed è un santo uomo adesso fra un po' diventa santo beato il processo di beatificare questo non dimenticato perché perché è evidente che il nostro impianto è basato ancora sul dualismo tra studi umanistici e studi tecnico scientifici ma si può essere più irresponsabili di così non si può ottenere questo dualismo per cui alcuni l'elite va al liceo classico e questi imparano niente ve lo dico io o al liceo scientifico niente gli altri vanno al tecnico e non hanno nessuna cultura e dice perché quelli fanno il tecnico quindi ma perché se uno fa il tecnico l'istituto tecnico non è un essere umano e perché non potrebbe avere cultura greca o latina ah dice perché uno mi ha detto una volta un provvedito eh ma perché studiare il greco e il latino ci vuole mi hanno detto tutti i colori ho detto sei un imbecille perché la cultura greca e latina non c'è bisogno di conoscere la lingua greca e latina se uno vuol diventare filologo allora sì i filologi sapete non studiano la lingua ma che bisogno c'è per io se voglio sapere il pensiero di Aristotele di Socrate di Sant'Omaso bisogna studiare il latino ma ci sono le traduzioni cioè capite l'errore per cui voi create della gente che va al classico poi va a fare le facoltà che potete immaginare e quelle non producono perché ma non perché quello che fanno è sbagliato ma perché è incompleto e questo è discriminatorio e viceversa perché quelli che vanno al tecnico non devono avere accesso alle fondamenti della cultura umanistica e viceversa nell'altro ma noi teniamo in piedi siamo rimasti gli unici al mondo a tenere in piedi il sistema dualistico e dopo poi ci lamentiamo del mismatch cioè dire che portiamo ai livelli alti dell'istruzione giovani che sistematicamente non trovano lavoro poi qualcuno si arrangia perché si ricicla e per fortuna altrimenti sarebbe un pianto ecco allora la prima causa una seconda causa ha a che vedere ma questa non è molto importante in questo momento storico con una carenza di domande effettiva però era vera all'epoca della prima grande crisi del 1929 cioè dire se la gente non ha i soldi in tasca non compra le merci e se non compra le merci le imprese non possono ovviamente produrre e se non producono licenziano fanno stare a casa i lavoratori ma questo in questo momento non è il caso perché? perché la globalizzazione ha risolto il problema perché se io non vendo in Italia posso vedere io sono un imprenditore vendo i miei prodotti fuori invece quando le economie erano nazionali è chiaro che questo non poteva la terza invece ragione è legata appunto alla transizione tecnologica in atto e questo è un affare serio perché? perché il processo cosiddetto di digitalizzazione noi su questo fronte siamo terribilmente indietro in Italia solo il 18% delle imprese oggi sono digitalizzate in Germania sono l'85% e allora voi direte allora allora vuol dire che essendo arretrati tecnologicamente abbiamo una produttività sapete cos'è? la produttività bassa ma se la produttività è bassa i costi sono più alti e quindi non riusciamo ad esportare contrario di quello che fa la Germania e in parte l'Inghilterra e gli Stati Uniti eccetera cioè il punto è che abbiamo una produttività molto terribilmente bassa da paese del quarto mondo e questa è una vergogna nazionale di cui nessuno vuol parlare però voi dovete sapere che fino al 1980 la produttività totale dei fattori italiana era superiore a quella tedesca lo sopevate fino al 1980 dall'80 in poi è declinata se voi guardaste le curve una va su e l'altra va giù e questo è importante perché fino al 1980 periodo della ricostruzione post bellica abbiamo avuto governanti che avevano la testa sulle spalle e avevano un forte senso di responsabilità io ricordo sempre una uscita che fece De Gasperi quando era presidente del consiglio dei ministri che gli dicevano gli americani lui era andato in America e gli hanno dato i soldi una donazione un assegno e gli hanno detto vedi di usare questi soldi che erano tanti per allora per aumentare il livello di benessere delle popolazioni del sud del sud Italia perché erano condizioni e lui sapete cosa ha detto no no io uso questi soldi per fare investimenti produttivi De Gasperi democristiano perché era un vero cristiano non ha fatto il tenero di dire poverini che stanno morendo di fame via allora con quei soldi compriamo un po' di cioccolate di questa e la distribuiamo perché sapeva che in questo modo avrebbe impedito non solo la ricostruzione del paese ma avrebbe tenuto quelli in povertà e ha fatto investimenti produttivi scuole ospedali strade e così via ed eravamo negli anni 50 quando veramente la miseria si tagliava a fette capite il coraggio che ha avuto questo uomo che in un contesto del genere prende la via dell'investimento perché aveva capito che l'Italia si poteva raddrizzare solo grazie all'aumento di produttività e infatti fino al 1980 noi avevamo battuto la Germania e dopo il quattro ecco allora la terza la quarta causa è legata al sistema fiscale italiano che è fondamentalmente sbagliato perché il nostro sistema fiscale tassa di più attenzione il lavoro e capitale e tassa molto di meno la rendita voi sapete che il prodotto interno PIL ha tre grosse componenti salario il profitto la rendita la rendita è di diverso tipo c'è la rendita finanziaria c'è la rendita burocratica sono tante le forme di rendita la rendita immobiliare ora se voi andate a vedere le tasse che si pagano sulla rendita sono molto 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 inferiori a quelle che si pagano sul lavoro e sul capitale e allora capite da soli perché la rendita è improduttiva sempre improduttiva quindi il risultato è che noi incentiviamo la gente a procurarsi la rendita anziché il profitto e anziché il salario e dopo cosa credete che uno che vive di rendita voglia lavorare è ovvio che non vuole lavorare ma se il sistema fiscale cominciasse a dire tu hai una rendita che non porta nessun frutto io te la tasso al 50% allora la gente alzerebbe i tacchi io non so se voi girate io giro sempre l'Italia è difficile che ci sia uno che gira più di me e vedo terreni palazzi tu li vedi da 5-10 anni lasciati inutilizzati e uno dice ma come e c'è gente che non ha la casa dice perché quello lì ha la proprietà e quindi siccome è proprietà sua fa quello che vuole ma come è il principio della destinazione universale dei beni dove lo mettiamo voi lo sapete che questo è uno dei capisali della dottrina sociale della chiesa destinazione universale dei beni la proprietà è ammessa dalla dottrina sociale perché deve essere ammessa a frutto se tu non la metti a frutto allora io ti lascio la proprietà formale però quella tuo bene lo do in gestione ad altri e vedrete che ci arriviamo in America hanno già cominciato hanno già cominciato c'è un libro uscito da poco che si chiama Radical Marks però bisogna sapere queste cose perché c'è troppa ignoranza in America non in un altro paese se uno ha la proprietà di un asset di un bene patrimoniale che lo lasci inutilizzato il governo dello Stato dice io giuridicamente ti lascio la proprietà però tu fino adesso non avendolo utilizzato non hai tratto nessun beneficio quindi io quello lì lo do in gestione a quei giovani lo do in gestione a una cooperativa lo do in gestione a un'impresa eccetera che mi fa fruttare il tuo asset questo è il punto se noi facessimo questo in Italia avremmo risolto metà di tutti i nostri prodotti voi andate al sud Italia a vedere quanti migliaia di ettari di terra sono non coltivati buttati al bacio ma dico ma vi rendete conto noi abbiamo una terra che fra l'altro è fertilissima c'è il sole eccetera potremmo raddoppiare la produzione di olio di vino di tutte quelle cose preziose che ce lo comprerebbero no ah dice ma perché quello lì è proprietario lui ha deciso che lo vuole lasciare così marcire ma io ti sbatto in galera questo che bisogna fare altro che storie e non c'è legittimazione non c'è legittimazione perché ripeto non si tratta di espropriare tu la proprietà però la tieni giuridicamente giuridicamente la gestione la diamo a chi dimostra di essere capace voi sapete qual è la tassazione sul lavoro ma le rendite finanziarie fino all'altro anno erano finanziate erano tassate al 12,5% uno che lavora quanto paga di tasse il 40% 38-40% uno si chiede ma dov'è la razionalità che tu fai pagare di più chi è produttivo rispetto a chi non è produttivo e questa è una distorsione che ha gravi conseguenze ma che ha radici di natura culturale per la quale siamo responsabili anche noi noi cattolici non possiamo nasconderci e dare sempre la colpa agli altri io preferisco colpevolizzare prima noi poi siamo bravi a fare discorsi retorici strappalacrime eccetera però dopo se andiamo a fare un'analisi puntuale vediamo che questo è il caso perché in 70 anni dopo la guerra si potevano cambiare e non lo si è fatto infine l'altro fattore è quello legato al dualismo territoriale nord-sud è questo il nostro cancro perché nel sud Italia vive il 33% della popolazione un terzo e voi sapete che il dualismo ora ormai non è solo economico è anche un dualismo sociale e un dualismo civile e questo è un problema piuttosto serio molto serio in altre parole perché questo è successo è successo perché abbiamo sempre favorito nei confronti dei nostri amici del sud politiche di tipo redistributivo cioè di tipo assistenzialistico poverini terroni non sono capaci di far niente sono qua sono là portiamogli giù i soldi cassa per il mezzogiorno questa è stata la rovina e quindi c'è una precisa responsabilità precisa responsabilità di chi dico due città per indicare la zona Torino e Milano soprattutto i milanesi andranno tutti all'inferno ve lo dico io perché il male che hanno fatto loro lo so solo lì Dio lo so solo lì Dio fatto che nei libri non si va scritti però se leggete i libri di storia economica di mia moglie lei le dice queste cose anche perché le ho detto se non le scrivi avete capito perché loro hanno impostato con la cassa sapete alla cassa per il mezzogiorno cosa è stata ma voi lo sapete quanti migliaia di miliardi sono arrivati al sud l'Ilva di Taranto per fare un esempio eccetera si mandavano giù i soldi ma chi gestiva quei soldi le imprese del nord e quindi i soldi andavano giù e poi tornavano su e nel sud non si è creata una classe dirigente locale voi se volete capire da persone adulte serie andatevi a leggere il resoconto stenografico eravamo oltre 56-57 quando stava per essere varata la cassa per il mezzogiorno andò in Parlamento a fare il discorso Pasquale Saraceno economista famoso bravo e lui difese la istituzione della cassa per il mezzogiorno con l'argomento che vi ho riferito i terroni non sono in grado di risollevarsi quindi dobbiamo andare noi del nord andare giù a aiutarli in quella seduta gli rispose prendendo la parola Giovanni Amendola del partito comunista italiano partito comunista uno dice statalista invece disse no questo è un errore perché dobbiamo ricordarci quello che disse Luigi Sturzo un prete che era siciliano quando disse solo il mezzogiorno può risollevare il mezzogiorno perché se noi andiamo giù a fare gli impianti e fare questo non si svilupperà mai una classe imprenditoriale da sud creeremo una generazione di assistiti e quando finiranno i soldi del nord per una ragione o per l'altra questa gente si troverà con i piedi a terra e aveva ragione ed era comunista di solito uno dice comunisti sono statalisti ma lui era intelligente anche perché era figlio di un liberale suo padre era un grande liberale quindi lui era diventato comunista però come dire aveva beneficiato questo per farvi capire qual è l'origine del dualismo e l'altra origine del dualismo culturale nord-sud è legata alla diatriba tra Cesare Beccaria Milano e Giacinto Dragonetti di Napoli se io dico Cesare Beccaria voi sapete tutto se io vi dico Giacinto Dragonetti voi dite chi è? vedete andrete all'inferno cioè sì perché non si può non sapere queste cose non si può perché è un delitto non sapere la verità allora 1764 Beccaria pubblica a Milano il libro dei delitti e delle pene vedete che lo sapete due anni dopo a Napoli Giacinto Dragonetti che era giurista professore a Napoli poi diventerà presidente del tribunale del regno delle due Sicilie a Palermo quindi uno che se ne intendeva come dire pubblica un libro due anni dopo che ha per titolo delle virtù e dei premi nel quale critica aspramente Beccaria e dice tu Beccaria hai questo chiodo fisso che secondo te bisogna fare le leggi per punire i delinquenti devi andare a spendere soldi con i poliziotti con il carcere eccetera ma non fai una legge per dare il premio ai virtuosi quindi questa è l'origine di tutti i guai ovviamente Milano vince perché la rivoluzione industriale in Italia parte a Milano e i libri di Dragonetti vengono cancellati vengono bruciati però tenete conto che il libro di Dragonetti viene tradotto in tre lingue subito straniere persino in russo e gli americani 1776 citano Dragonetti nella dichiarazione di indipendenza gli americani a Filadelfia dice noi dobbiamo seguire l'insegnamento di Dragonetti non quello di Beccaria voi sapete che Beccaria era di cultura calvinista e Milano è sempre stato calvinista poi dopo sapete io ho studiato a Milano mi sono laureato ho insegnato in Bocconi 22 anni ho fatto il presidente dell'agenzia io conosco Milano mia moglie di Milano poi è un aggravante purtroppo eccetera ma voi quando parlo con i milanesi io me ne accorgo subito perché io se voglio sapere gli faccio certe domande dalle parole che mi usano capito perché Beccaria che era calvinista come cultura Beccaria era il suocero di Manzoni Manzoni però non poteva dire male del suocero però se voi leggete Promessi Sposi e altro prende le distanze da Beccaria perché l'errore è quello di mettere in primo posto l'ordine la legge e non il principio del bene Dragonetti diceva prima bisogna mirare a fare il bene poi si rispettano le leggi ma dopo non che tu per rispettare le leggi ti dimentichi di fare il bene della gente capite la differenza la diversa mentalità voi sapete cos'è stato il calvinismo culturalmente che non è Lutero era diverso da Calvino molto diverso e questa impostazione è rimasta l'idea dell'ordine le regole eccetera ma le regole sono per l'uomo o è l'uomo per le regole Dragonetti era cattolico è stato anche per questo che è stato perseguitato però il tempo è galantuomo e oggi noi vediamo che il pensiero di Dragonetti sta riemergendo e quello di Beccaria sta andando giù però il pasticcio è stato fatto è stato fatto ci sono dei passi delle virtù dei primi un titolo delle virtù e dei primi perché dice Dragonetti dobbiamo dare i premi non gli incentivi eh i premi a chi fa la virtù perché lui cita il brano evangelico non si mette la lampada sotto il moggio ma la si mette in alto perché deve illuminare cioè dare il premio a chi compie un atto virtuoso è un modo per segnalare agli altri che ci sono persone che fanno il bene perché Aristotele aveva detto che la virtù è più contagiosa del vizio a condizione che venga fatta conoscere bisogna far conoscere invece voi vedete è passata la linea prendete i giornali voi in un giornale Corriere della Sera Repubblica quello che volete quanto spazio viene dato alle cose buone che si fanno tanta gente che fa delle op e quanto spazio viene dato a chi ammazza uno chi ruba l'altro vedete subito ma che paese civile è il nostro in cui se uno ammazza un altro per due giorni gli dedicano paginoni uno salva dieci persone con un atto come dire di amore ma al massimo un trafiletto questo dovete ringraziare Beccaria e allora quando io dico che chi ha rovinato l'Italia è stata la cultura milanese so che i miei amici milanesi non voglio che lo dico però io glielo dico e glielo dico a Milano non lo dico qui però vedo che nessuno mi ha mai contestato perché io ho detto provate a contestarmi se voi mi contestate io come dire mi metto buono ma voi non avete argomenti per contestare perché i fatti storici parlano da soli e questo capite ha acuito il dualismo nord-sud perché evidentemente si sono fatte le leggi nazionali dopo l'unità d'Italia tarate sulla mentalità torinese-milanese cioè del nord che non andavano bene per quelli laggiù perché loro avevano avuto gli spagnoli e quindi questi poveretti si sono trovati a seguire delle leggi o tortocollo perché non le sentivano e quindi è nato quello che sappiamo evasione farifurbi eccetera eccetera lì bisognava fare invece un'operazione di acculturazione perché tu non puoi imporare quello che succede oggi con i migranti quando si parla delle politiche di integrazione dobbiamo tener conto che gli africani che vengono dall'Africa hanno una matrice culturale diversa dalla nostra non gli possiamo imporre la nostra matrice questa è violenza capite o non capite dopo per forza che quelli si ribellano e fanno le cose che puntualmente i giornali scrivono dicono ecco hai visto allora buttiamoli fuori perché queste fanno così mai che ci si chiede perché si comportano in quella maniera è così allora andando verso la conclusione capite perché sono tante le cause per le quali non si crea perché è ovvio che in Emilia Romagna non c'è disoccupazione siamo al 4,5% quindi andate a vedere però al sud c'è solo da piangere la gente continua a emigrare dal sud vengono al nord o addirittura vanno all'estero e emigrano i migliori è ovvio quelli che hanno studiato eccetera quindi è un problema straziante che fare in parte ho già detto che bisogna agire sul fronte politico però bisogna agire non come abbiamo fatto negli ultimi decenni per fare gli interessi del nord contro quelli del sud che è così perché la cassa per mezzogiorno ha favorito solo il nord e non il sud punto e basta i dati parlano chiaro e quindi se uno vuol sapere la verità bisogna che si attenga ai dati oggettivi la seconda però è di tener conto di un altro fatto e cioè così come bisogna agire sul piano politico per cambiare il sistema fiscale ma voi sapete che l'Italia non ha una legge sulla famiglia lo sapevate voi no tutti i provvedimenti sulla famiglia rientrano come commi o come articoli in altri provvedimenti di legge è l'unico paese in Europa cioè noi non abbiamo una legge intestata alla famiglia articolata secondo quindi ad esempio noi non abbiamo il fattore famiglia o il quotiente familiare la Francia laicissima Francia l'ha introdotto nel 1945 il quotiente familiare noi che siamo vogliamo fare i super cattolici non abbiamo mai introdotto e ditemi perché queste sono responsabilità è inutile dopo stracciarsi le vesti dire la famiglia è trascurata non si pensa più ai figli ma per forza perché il nostro ordinamento giuridico è contro la famiglia voi prendete le varie leggi le mettete in controluce e capite subito anziché fare una legge in che dica che fra l'altro abbiamo l'articolo della Costituzione avremo l'aggancio in Costituzione e invece niente oltre a questo e ad altre però bisogna agire anche su due altri fronti il primo è quello propriamente culturale voi sapete che la nostra situazione di oggi è caratterizzata da quel fenomeno che va sotto il nome di individualismo libertario però non dovete dire individualismo dovete dire individualismo libertario perché l'individualismo è nato con la rivoluzione francese e più o meno sappiamo cosa vuol dire mettere al centro l'individuo e non più la comunità prima invece l'individuo non contava la persona cosa è successo a partire dagli anni settanta che l'individualismo si è sposato con il libertarismo è nato l'individualismo libertario qual è la tesi centrale dell'individualismo libertario volo ergo sum che vuol dire voglio dunque sono non dice voglio dunque ho che sarebbe passabile ma sono cioè la mia essenza dipende da quel che voglio e allora vedete subito una conseguenza ecco perché non si parla più di educazione perché fintanto che prevarrà a livello culturale di cultura l'individualismo libertario è impossibile educare perché è possibile nel senso che non lo si è poi qualcuno fa eccezione per fortuna perché se voi cercate di educare il giovane studente o anche membro della famiglia vi può denunciare voi lo sapete quanti figli denunciano i genitori e la legge dà ragione al figlio visto l'anno scorso il caso di quella famiglia di Pisa sei mesi di galera gli hanno dato quella condizionale perché i genitori spingevano perché il bambino andasse a catechismo aveva già fatto la prima comunione doveva fare la cresima e il figlio non ci voleva andare e allora un giorno questo bambino forse istigato da qualcun altro è andato a dire ai carabinieri i carabinieri hanno fatto cause il giudice gli ha dato sei mesi l'argomento è voi genitori non dovete obbligare i vostri figli eccetera ma noi volevamo educarlo ah no voi potete fargli una proposta ma non potete come dire spingerlo non parliamo poi dei professori ma se un professore in classe fa certi discorsi lo studente lo può denunciare sì o no ecco io personalmente insegno da 50 anni me ne sono sempre fregato scusate il termine vedo che nessuno mi ha mai denunciato quindi sono stato fortunato perché io di andare in classe e fare il pappagallo a ripetere tutte le nozioncine eccetera dico l'educazione ha bisogno di un testimone l'insegnamento lo puoi fare anche via telematica ormai mandi le slide eccetera ma educare è molto di più che insegnare e voi sapete che l'educazione è il contrario della istruzione perché l'istruzione è mettere dentro educare educere e tirare fuori ma per tirar fuori ci vuole l'allevatrice i bambini non nascono da soli hanno bisogno dell'allevatrice quindi giovani meno giovani hanno bisogno che uno gli aiuti a tirar fuori questo è il processo educativo ma oggi non lo si può fare voi guardate certi articoli o certe leggi il principio esattamente è questo ecco allora perché una lotta senza quartiere va condotta nei confronti dell'individualismo libertario perché questo è all'origine della tristezza che colpisce i nostri giorni soprattutto i nostri giorni com'è che i giovani di oggi sono sempre tristi li vedete o no hanno tutto dall'iPhone alla macchinetta al motoretta hanno tutto uno dice perché noi non avevamo niente non avevamo i soldi neanche per comprare un pallone che prendevamo la carta da giornale bagnavamo e facevamo una palla a quella però eravamo sempre contenti bisogna capire queste cose perché i giovani si danno l'alcol alla droga porcherie varie eccetera perché non sono felici e tu se glielo spieghi che la loro infelicità è dovuta al volo ergo sum allora qualcuno lo capisce perché l'autoreferenzialità è ciò che impedisce alla persona di essere aiutata perché se tu pensi di essere autosufficiente che tu devi volere la tua identità è chiaro che non accetterà mai di essere aiutato da qualcuno ecco perché questa azione di tipo culturale oggi è fondamentale infine un altro piano che questo però riguarda di più chi è credente è quello che concerne la seconda secolarizzazione noi oggi viviamo nella stagione della seconda secolarizzazione la prima secolarizzazione è quella che venne descritta magnificamente da Max Weber il grande sociologo tedesco all'inizio del novecento qual è lo slogan che rappresenta la prima secolarizzazione operare o legiferare et si Deus non daretur come se Dio non esistesse che è il principio di laicità attenzione questo questi non dicono Dio non esiste dice tu se sei parlamentare se sei di quasi devi fare prendere le tue decisioni come se Dio non esistesse se poi tu vuoi essere credente libero tu di credere eccetera però non puoi forgiare la matrice culturale della tua paese o della tua città partendo dall'assunto che Dio esiste questo è il senso della prima secola oggi oggi vuol dire negli ultimi 30-40 anni si è affermata invece la seconda secolarizzazione e qual è la frase che dice bene il contenuto della seconda secolarizzazione bisogna vivere etsi comunitas non dareto come se la comunità non esiste in altre parole oggi il vero problema male soprattutto per i giovani ma anche per i giovani è che si sta rifiutando il concetto di comunità legato al discorso di prima volo ergo su perché se io mi riconosco membro di una comunità penso di perdere la mia libertà perché dopo non posso più dire che quel che io faccio è perché lo voglio io perché mi farei condizionare dalla comunità e questo badate la seconda secolarizzazione è ancora più grave della prima perché la prima in qualche modo l'abbiamo digerita lo Stato quando si dice lo Stato laico non laicista laico è passata ma la seconda secolarizzazione è ancora più come dire pericolosa perché appunto distrugge i legami orizzontali perché oggi le comunità non hanno più il vigore del periodo anni Ottanti indietro provate tutte in qualsiasi paese c'è ancora la parola viene mantenuta ancora l'organizzazione però non c'è più quella come dire quell'energia e quella forza trainante che c'era un tempo e la ragione è esattamente questa ecco allora perché anche su questo piano occorre veramente intervenire e fate bene voi a dedicare attenzioni a tematiche come queste come io ho capito leggendo il programma dei vostri incontri chiudo dicendo noi oggi viviamo una stagione di tempi straordinari il nostro non è un tempo ordinario cioè viviamo la seconda grande trasformazione di tipo polagnano nel senso di Karl Polany quindi viviamo una grande trasformazione di tutto degli assetti sociali delle strutture istituzionali dei modelli culturali eccetera non dobbiamo allora impressionarci se le cose ci paiono troppo difficili o impossibili da risolvere è normale che sia così è perché non studiamo e siccome non studiamo siamo ignoranti e quando uno è ignorante è la fine perché se studiassimo scopriremo che anche in altre epoche storiche pensate all'umanesimo 1400 quella fu un'altra grande trasformazione pensate alla prima rivoluzione industriale in Inghilterra 700 se non è stata quella una grande trasformazione cioè la storia umana non procede in maniera lineale ma procede come una sinusoide si dice in matematica che va su giù però la linea di trend è ascendente perché il tempo del cristiano è un kairos non è un kronos kronos vuol dire il cronometro i greci pensavano che il tempo fosse cioè circolare che dopo un po' si ritornava appunto di partenza no non è vero dopo un po' si va ancora più in alto però durante le fasi di trasformazione si deve penare quindi non ci dobbiamo meravigliare perché molti mi dicono non c'è più niente da fare come non c'è più niente da fare ricordate Sant'Agostino cosa diceva i suoi che si lamentavano che allora allora i tempi erano duri vi ricordate come di risponde secondo me gli ha dato anche delle sberle ha fatto bene perché fan bene le sberle perché certe teste si muovono soltanto con dei pugni e sono dimostrato non sto scherzando le neuroscienze dimostrano che delle scosse ai neuroni servono a quindi hanno una funzione terapeutica io l'ho sempre praticato senza saperlo e quindi mi è andata sempre bene però ha funzionato ha funzionato allora per chiudere veramente dico questo una frase che mi ha sempre colpito del poeta indiano Tagore premio Nobel della letteratura di circa un secolo fa in una delle sue massime Tagore scrive quando il sole tramonta cioè quando si vivono tempi duri difficili non piangere perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle è proprio così noi oggi viviamo un tempo straordinario di trasformazione non dobbiamo però piangere e capite cosa vuol dire non dobbiamo piangere perché anche in questo tempo nelle notti di sereno è possibile vedere il lucichio di tante stelle però non dobbiamo piangere perché se piangiamo non vediamo quel lucichio e dopo pensiamo che le stelle non ci siano invece le stelle ci sono grazie grazie